Il diabete è una delle patologie croniche maggiormente diffuse nel mondo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi decenni l'incidenza è quasi quadruplicata, passando da 108 milioni nel 1980 a 422 milioni nel 2014. In Italia, invece, i dati più recenti stimano una prevalenza del diabete intorno al 6,2% della popolazione, dato più che doppio rispetto a quello di 30 anni fa. L'aumento dell'incidenza e della prevalenza del diabete in tutto il mondo si associa, purtroppo, anche a un aumento della frequenza delle complicanze. Una di queste è la malattia renale cronica, che rappresenta una delle principali complicanze del diabete di tipo 1 e 2. Questa colpisce circa un terzo delle persone con diabete e rappresenta la prima causa di insufficienza renale terminale in tutto il mondo. Di questo e di altro se ne è parlato in un congresso medico con relatori e opinion leader a livello nazionale tenutosi a Senigallia, come ci spiega la responsabile scientifica del progetto, la dottoressa Manfrini di Senigallia, responsabile dell'unità operativa dell'area Vasta 2. Negli ultimi mesi, ultimo anno, sono uscite delle evidenze scientifiche importanti sul fatto che alcuni farmaci innovativi, tra virgolette, sono in grado di prevenire o quantomeno rallentare la progressione della nefropatia diabetica. Quindi questo aveva un senso. L'attenzione mediatica sul diabete in questo periodo è dovuta anche alla ricorrenza della giornata mondiale del diabete del 14 febbraio, che ha fatto accendere i riflettori su di un quale aspetto, ovvero la prevenzione, dato che si stima che oltre 14.000 marchigiani non sappiano di essere diabetici. Davanti alla splendida Rotonda Mare, quindi sede del congresso, un presidio della Croce Rossa italiana e dell'Associazione Diabetici ha effettuato screening gratuiti a tutta la cittadinanza. Sensibilizzare è importante perché, anche se il diabete apparentemente non dà sintomi, però provoca dei danni che possono essere estremamente gravi. Toccante durante il convegno è stata la testimonianza del padre di una paziente della struttura che pur vincendo la sua battaglia contro il diabete, curandosi e vivendo una vita normale, nulla ha potuto però contro un male incurabile.